Sì, 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 Soverato è bellissima ma quando arriva il circo lo è ancora di più e stavolta è arrivato il circo Donna Orfei dell'Epi Circus Internazionale e noi siamo venuti a curiosare grazie alla cortesia del direttore artistico Emanuele Medini, siamo proprio nello zoo, il circo è là e tra poco andremo a vedere anche le immagini bellissime, lo sapete che voi ci regalate sempre dei sorrisi. Beh dai, ci speriamo, innanzitutto buongiorno a tutti, questo è l'internazionale Epi Circus Donna Orfei e in questo momento ci troviamo qui a Soverato, quindi sì, noi speriamo sempre di donare dei sorrisi e per questo che facciamo anche questo lavoro, perché questo non è solo un lavoro per noi, è uno stile di vita, quindi a noi quello che interessa è far sorridere le persone in questi momenti che magari saranno un po' più difficili per tutti quanti. Siete arrivati venerdì 12, andate via il 29, ieri sera passando ho sentito tante risate di bambini, ma ridono solo i bambini? No, è uno spettacolo per adulti e bambini, è molto molto misto, ci sono attrazioni per tutti, sia per adulti che bambini, poi c'è tanta comicità sia per adulti che per bambini, abbiamo tantissimi animali, abbiamo tantissime bellissime attrazioni, è uno spettacolo molto completo, moderno che però rispetta sempre le tradizioni del circo comunque. E' assoverato, avete trovato una grande accoglienza, dà l'impressione che ha chi entra nel vostro backstage che siate una grande famiglia, siete sereni e contenti, non vi arrabbiate mai? Beh no, no, assolutamente no, sì, è vero che siamo una grande famiglia, essendo che comunque seppur non siamo tutti di famiglia, però la direzione è solo una, è una famiglia, però essendo che noi viviamo 24 ore su 24 insieme, lavoriamo insieme, è come se fosse un piccolo paesino, quindi diventiamo tutti di famiglia, speriamo e cerchiamo di non litigare mai, però comunque qualche screzzo ogni tanto succede anche a noi, ci arrabbiamo anche noi sicuramente. Comunque c'è tempo per venire a vedere lo spettacolo, possiamo dare indicazioni precise su orari e giorni? Ovviamente, ovviamente, noi saremo qua fino al 29 maggio, lunedì 29 maggio e presenteremo tutti i giorni i nostri spettacoli, o meglio saranno lunedì fino a sabato, gli spettacoli saranno alle ore 17.30 lo spettacolo pomeridiano, alle ore 21 lo spettacolo serale, invece domenica abbiamo due spettacoli continuati alle 17 e alle 19.30, quindi avete tantissimo tempo per inizi a trovare, potete vedere tantissimi animali, come potete vedere qua abbiamo leoni, leonesse, la tigre bianca, leone bianca, abbiamo i cavalli, i dromedari, abbiamo le zebre e tantissime attrazioni, abbiamo un'attrazione che viene direttamente dal gruppo Mediaset, ha partecipato a Tussichevales, è un trapezista molto molto bravo, quindi dovete venirlo a vedere sicuramente. E un'ultima domanda, di solito gli animali, voi avete dei nomi per gli animali, c'è qualcuno che si chiama in maniera particolare, non so, una tigre o un... vedo una zebra anche, io sono juventino. Sicuramente abbiamo tutti i nomi particolari, sono talmente tanti gli animali, noi diamo nome a tutti perché comunque per noi non sono solo animali, sono persone che fanno parte della nostra famiglia, soprattutto tutti questi animali da quando sono bambini sono qua, da quando sono cuccioli, quindi tutti quanti hanno un nome, sì ci sono tantissimi, per esempio la zebra si chiama Del Piero, una delle due, poi qua abbiamo Sarabi, Simba, Sultan, di qua abbiamo invece Pepito, abbiamo Tyron, ci sono tanti tanti animali. E allora per i bambini di tutta l'età, e io ne sono un esempio, tutti al Circo Don Orfei verremo con piacere. Voi ci sarete fino al 29? Esatto. Anche se piove? Tutti i giorni noi presentiamo il nostro spettacolo, pioggia o no, come diciamo noi le interperie non fermano mai lo spettacolo del Circo, il Circo continuerà sempre, è l'unico spettacolo, il più bello e il più vero che continua in ogni caso, quindi fino al 29 noi saremo qua e presenteremo tutti i giorni i nostri spettacoli, l'internazionale Epicircus Don Orfei sarà sempre qui a vostra disposizione fino al lunedì 29 maggio, quindi veniteci a trovare, grazie.